Il Capodanno e l'Epifania saranno contrassegnati da restrizioni anti-Covid a Ottati. Visto l'aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni in tutta la regione e non solo, con il conseguente annullamento di diversi eventi anche sul territorio del Vallo di Diano, il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, ha firmato un'ordinanza con la quale si vietano gli eventi pubblici e privati e si annullano tutti quelli già organizzati. L'ordinanza firmata ieri ha effetto immediato e sarà valida fino al 16 gennaio. Oltre al divieto degli eventi, l'ordinanza dispone che tutti i soggetti che si trovano fuori regione o che si recano fuori dalla campagna per poi rientrare adottati hanno l'obbligo di comunicare l'arrivo sul territorio comunale almeno 48 ore prima telefonicamente al sindaco oppure a mezzo PEC trasmettendo copia di un referto di negatività al Covid-19. È prevista la chiusura di tutte le attività commerciali dalle 20 alle 5, resta consentita fino alle 22 la ristorazione esclusivamente per consegna a domicilio e asporto. Le attività commerciali dovranno adottare e conservare per 30 giorni un registro su cui annotare gli ingressi. Il municipio resterà chiuso al pubblico salvo per l'espletamento di servizi indifferibili e urgenti previo appuntamento telefonico. Sospeso inoltre il mercato settimanale e la vendita ambulante sul territorio comunale di Ottati. L'ordinanza impone anche la sospensione delle attività di diletto e associazionismo che si svolgono nel centro sociale comunale nonché nella biblioteca comunale e il divieto di accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza. Restano in vigore tutte le altre disposizioni impartite dagli organi nazionali e regionali competenti in materia sanitaria.